Dopo l'incendio alla Richetti, un duro colpo per l'economia del territorio, lei torna sull'argomento per denunciare la mancata manutenzione nella zona industriale, una denuncia che lei porta avanti da anni. Esattamente, purtroppo ci siamo ritrovati con questo incendio alla fabbrica Richetti, una zona di tant'atto nella zona industriale, e purtroppo questo incendio ha messo alla luce un problema che denunciamo da anni, ossia la mancata manutenzione dell'intera area industriale. Il nesso tra la mancata manutenzione e quello che si è verificato con l'incendio sta nel fatto che magari se si fossero intervenuti preventivamente con una bonifica dell'amianto dell'intera zona industriale, oggi staremmo a parlare solo dell'incendio e non di un potenziale inquinamento ambientale. Quello che mi auguro è che questo funga da insegnamento e quindi mi auguro che le istituzioni adesso ascoltino le richieste che provengono da parte dei cittadini che si agisca e che si intervenga subito, immediatamente, perché non c'è altro tempo da aspettare, affinché si possa appunto bonificare in primis l'intera area industriale dall'amianto e dall'Ethernet, perché potenzialmente può succedere nuovamente un incendio e possiamo trovarci, io mi auguro di no, però possiamo trovarci a distanza di qualche tempo a parlare della stessa problematica se non ancora più grave. Oltre al fatto che negli anni abbiamo denunciato anche una mancata manutenzione a livello stradale, una mancata manutenzione all'illuminazione pubblica, un mancato intervento dei rifiuti, perché sono presenti in una zona industriale varie discariche abusive, dove i cittadini o anche gli autisti lasciano i rifiuti e nessuno li raccoglie. Noi abbiamo denunciato queste problematiche in più occasioni, lo abbiamo fatto con il Comune di Teramo, lo abbiamo fatto interpellando il Presidente della Provincia, lo abbiamo fatto anche coinvolgendo il Presidente della Regione Abruzzo, perché non dimentichiamo che la zona industriale è una ex zona industriale, oggi è l'Arap, quindi è l'Agenzia Regionale per le Attività Produttive, che è l'ente competente sia della manutenzione che è competente per questa area. Quindi quello che ci auguriamo è che chiediamo a gran voce, è un intervento risolutivo, trasparenza sui dati per quanto riguarda l'inquinamento, se inquinamento c'è stato, perché i cittadini di Sant'Atto, ma anche di Bellante, quindi dei comuni limitrofi, molti di questi cittadini hanno degli orti, quindi si preoccupano sul fatto se possano mangiare o meno i prodotti di propria coltivazione. Quindi al Sindaco di Teramo chiediamo sicuramente questo, trasparenza e comunicazione dei dati.